Immancabile la musica che fa d'overtura a maggio dei libri al liceo Alfano I che dà il via alla quattordicesima edizione dell'iniziativa culturale con una scrittrice di razza Chiara Vergani. Impegnata su temi sociali di scottante attualità, Vergani è pedagogista, formatrice sulle problematiche del bullismo specializzata in criminologia e tutela dei minori. In collegamento da remoto la scrittrice figliana è stata presentata alla platea di studenti dalla professoressa Gilda Ricci Un pensiero per le donne del domani e come dice l'autrice un libro corale. Sono libri scritti a tante mani come è il caso di Un pensiero per le donne del domani perché ho raccolto le migliori autrici di tutte le regioni italiane in modo da dare la possibilità ad ognuna di esprimere una tematica e tutte assieme andiamo come ha scritto l'onorevole Stefania Pezzopane nella prefazione a creare un nuovo vocabolario della non violenza perché l'obiettivo è quello proprio del contrasto alla violenza, alla violenza di genere. Ho voluto sensibilizzare tutte le autrici verso questa tematica perché io credo che tutte assieme si possa far sentire la nostra voce anche a livello governativo.